ciao a tutti e bentornati nella mia stanza oggi continuiamo a parlare di fumetti continuiamo a parlare della linea vertigo della DC Comics e parliamo di un vero e proprio gioiellino uscito nel 1988 ad opera di Steven Seagal credo che si pronuncia così e disegnato da vari disegnatori in Italia è uscito in sei volumi ora vi faccio vedere un gioiellino che ovviamente non ha considerato nessuno e sto parlando di House of Secrets allora House of Secrets è una perla recuperatela perché è veramente una cosa meravigliosa ho guardato prima di fare questo video ho visto che su ebay si trovano usati a 5 euro a volume è una serie in americo sono usciti in 26 numeri 25 numeri scusate e la magic press ha fatto un buon lavoro stampandoli in stampandoli in volume anche volumi abbastanza corposi di circa 120 130 120 130 pari a questa ancora avevano il prezzo avevano il prezzo in lire ovviamente però essendo un gioiellino ed essendo una lettura non facilmente comprensibile da subito non l'ha considerato nessuno anche quando ci si incontra con gli altri nerd che se ci si mette a parlare di fumetti della di House of Secrets scusate della Vertigo nominano sempre i caposaldi Sandman, Preacher, Hairblazer e non so cos'altro quando però gli vai a dire House of Secrets rimangono un pochino spiazzati vi faccio vedere velocemente le copertine allora questo è il primo volume che si intitola fondazione il secondo volume si chiama primo piano vedere sono vecchissimi numeri della magic press il terzo numero è il più corposo si chiama il libro della legge e ora andremo a vedere di cosa tratta nello specifico il quarto volume altre stanze questo House of Secrets altre stanze e l'ultimo semi interrato e soffitta poi cosa successe uscì questa è la mini di 25 numeri in cinque volumi poi uscì dopo qualche anno un numero a sé che sono una serie di storie singole che si chiama House of Secrets facciata ecco questo uscì qualche anno dopo rispetto ai volumi però serve per capire di cosa si parla ecco di cosa si va a parlare allora in House of Secrets si vanno a toccare termini e toni un po' importanti di storie ci sono scene abbastanza pesanti c'è scene di violenza di un certo tipo di violenza sparizione di bambini c'è si parla di tumori ecco è un fumetto bello che parte da un'idea disarmante nella sua semplicità parte dalla classico concetto di casa misteriosa di casa infestata nei fumetti come nel cinema se c'è un'idea semplice ma chi è al alle mani nel caso di uno scrittore di fumetti quindi chi scrive il fumetto che scrive un romanzo o chi dirige un film anche da un'idea semplice banale strausata tira fuori qualcosa di eccelso voi pensate a romero con l'idea semplice anche se romero un caso a parte che per aver scritto il lo zombie moderno però con un concetto semplice dello zombie romero è riuscito a fare non so quanti film 456 film sempre diversi sempre diversi sempre innovativi sempre con un messaggio di fondo presente però con parlando sempre di zombie in house of secret funziona alla stessa maniera l'idea è trita ritrita si parla della casa misteriosa casa infestata a me viene in mente forse il primo dei primi racconti di lovecraft che si titola appunto la casa infestata però riesce a mischiare le riesce a modificare steven sigle riesce a modificare il la storia ogni volume cambiandoti il la prospettiva e questa è una cosa che colpisce allora la trama in soldoni siamo negli anni 90 siamo a seattle la capitale del grunge della contro cultura americana eccetera eccetera di tutti i gruppi da jimmy hendrix a nirvana che sono di siatto a siatto le esiste un enorme casa di legno abbandonata qui dentro si riunisce una giuria sovrannaturale in cui vengono ascoltati e giudicati uomini che si che nascondono dentro di loro dentro di sé oscuri e inconfessati segreti il giudizio del tribunale è un ultimo grado per le anime che vanno lì o per gli uomini che vanno lì appare come un ultimo grado di una giustizia incapace di valutare certe colpe e a quel punto il tribunale quando ha emesso il suo giudizio ti può dare come sentenza di andare ai piani alti della casa quindi andare al paradiso andare in cantina quindi andare all'inferno o al piano terra tornare sulla terra nel mondo degli uomini questa è la trama però cosa succede il tribunale scusate di solito è costituito da spiriti vedremo nell'opera che anche gli spiriti hanno una loro storia sul perché sono entrati a far parte del tribunale il tribunale ha bisogno di una visione umana e quindi in un caso fortuito la nostra protagonista che è questa ragazza qui che si chiama rain viene scelta per assistere ai processi del tribunale e di volta in volta lei porta il suo sguardo umano non è una persona è difficile parlare di house of secret senza farvi spoiler ma rain ai suoi problemi rain è fuggita di casa rain porta dentro di sé un cinismo fatto dalle violenze domestiche che ha subito da parte del padre del patrigno ora non me lo ricordo e è una cosa veramente particolare però è l'unica che ha ancora il la vicinanza all'uomo all'umanità all'essere umano per poter a volte fermare il giudizio di questi spiriti di queste creature di questi esseri di giudici allora il primo volume ci introduce il personaggio di di rain il personaggio dei suoi amici sono un gruppo di cantanti dell'underground quindi ci porta a presentare alcuni alcuni personaggi vedete foundation parte prima questo è il tratto dei disegni anche un tratto molto spigoloso e per in certi momenti anche non piacevole ecco a volte da veramente davvero 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 fastidio quindi i primi due volumi che sono fondazione che in cui ci presenta il personaggio di rain e anche tutti gli altri gli altri suoi amici nel secondo volume che si intitola primo piano si assiste anche alla storia di come la casa viene progettata dei danni che vengono fatti una casa che è maledetta fin da subito infatti vengono fatti rituali esoterici al suo interno la padrona dell'abitazione quella che ci dovrebbe tornare a stare sia male muore veramente una cosa una cosa un po un po particolare ecco e qui comincia a presentarci anche i giudici poi che succede questi sono i primi due volumi il terzo volume di cui io consiglio scusate di cui io consiglio l'acquisto anche come libro a sé stante si intitola il libro della legge allora qui è una cosa particolare perché non si parla più della casa vuoi stare attento ad aprirlo perché si rompe che è una bellezza ormai è talmente vecchio che si disintegra praticamente questi volumi si disintegrano ad aprirsi infatti averlo aperto per leggerle è stato veramente un patimento qui ci presenta i giudici qui ci racconta chi sono le gli spiriti e perché hanno questa sete di giustizia ci sono tutti i tipi di giudici che provengono da tutte le ere c'è un giudice che proviene dall'antico egitto un altro che era uno schiavo liberato dell'imperatore adriano un altro che al tempo di carlo quinto fosse il serial killer e una signora dell'america degli anni 50 che viene seppellita viva perché si era innamorata di un bianco è veramente una cosa un po particolare il libro della legge però è un libro da leggere è un volume da leggere a sé stante è stato messo come terzo volume per staccare da quello che succede nei primi due e quello che succederà nel quarto e quinto nel quarto e quinto volume ma è leggibile in autonomia io mi ricordo che quando mi fu prestato auto secret prima di comprarlo mi prestarono prima il libro della legge quindi lessi il libro della legge da solo e poi dopo sono risalito all'indietro e me li sono riletti tutti tutti e cinque vi consiglio di fare lo stesso consiglio a tutti di leggere il libro della legge perché è una cosa che colpisce e si capisce come mai ci sono questi spiriti che sono sempre desiderosi di giustizia a tutti i costi a costo veramente di creare un danno o di far fuori un innocente qualcosa del genere gli ultimi due volumi che sono appunto altre stanze e seminterrato e soffitta ci portano al finale dell'opera senza spoilerarlo rain troverà sua madre fra i fra le anime fra le persone che vengono sottoposte a giudizio del a giudizio dei giudici a giudizio della casa a parlare dei propri segreti rain scoprirà che rain scoprirà che sua madre gli ha tenuto nascoste determinate cose sarà un numero toccante scoprire che sua madre viene con da verrà sto cercando di far di dirvelo senza dirvelo si scoprirà un segreto di sua madre della madre della protagonista e nell'ottica distorta dei giudici è un segreto che viola la giustizia ecco non so se mi sono riuscito a spiegare ma è una cosa veramente bella questa questa lettura il finale il finale non vi dico come riescono a distruggere la casa non vi dico come vengono come viene non vi dico come viene distrutta neanche sotto tortura ma vi posso dire che nel numero ultimo facciata si scopre che la casa si è ricreata non più sulla costa di Seattle ma nei soborghi americani new yorkesi allora quindi l'attività dei giudici continua perché non può essere fermata chi li ha messi di giudici non si sa e non ce lo dicono è giusto quello che fanno è sbagliato questo sta al lettore sigol riesce a cambiare le carte in tavola dopo ogni numero è un gioiello ve l'ho detto house of secrets è veramente una chicca è un'opera da riscoprire è un'opera da trovare ve l'ho detto su ebay costa 5 euro a volume tranne uno mi sembra che addirittura costa 2 euro o 1 euro e 90 in diretta vi dico su amazon se c'è house of secrets fa parte della linea vertigo che conosciamo abbiamo già imparato a conoscere e anche lì avviene la distruzione di una vecchia serie a fumetti della dc comics degli anni 70 mi sembra che portava portava il titolo di house of secrets viene totalmente distrutta viene totalmente distrutto e ricomincia allora house of secrets su amazon non c'è non c'è però lo potete tranquillamente recuperare come vi ho detto su ebay a 5 euro a volume quindi sono sei volumi sono 30 euro non so con i tempi di ora se i corrieri vanno a giro per portare una cosa che non sia di prima che non sia di prima necessità ma assolutamente recuperatelo perché non potete dirvi di essere estimatori della vertigo se non avete letto house of secrets inciso per i giocatori di ruolo o per i master di gioco di ruolo di mondo di tenebra vecchio nuovo mondo di tenebra house of secrets potete mandare in paranoia tutti i giocatori facendo di entrare nella casa dei segreti nella casa misteriosa non vi ho detto volutamente il nome della casa perché voglio spingervi ad avere la curiosità di entrare dentro house of secrets e scoprire i nomi della villa il nome della villa i nomi dei giudici scoprire cosa succederà a rain e suoi amici e sinceramente mi domando ancora come è possibile che questo gioiello non sia stato accolto come poteva essere accolto un send meno il blazer o un preacher ecco secondo me non hanno niente da quest'opera non ha niente da invidiare ai grossi calibri della della linea vertigo e può stare tranquillamente ad essere un fumetto per adulti allora nei commenti ditemi se voi lo conoscete se l'avete letto che cosa ne pensate e noi allora noi no mi hanno detto di ricordarvi di iscrivervi al canale di mettere mi piace di condividere il video come vi dicono gli youtuber bravi noi ci vediamo la prossima volta in cui affronteremo un fumetto che quando l'ho letto sono rimasto sconvolto sempre della vertigo sempre della vertigo scritto da un autore inglese quindi si torna a quella british revolution cominciata da gay man con con sandman e books of magic noi ci vediamo al prossimo video ciao e alla prossima